La Turris si diverte e gioca, si vede tutti. La realtà di questo campionato stanno facendo bene. Hanno avuto anche loro un paio di battute e dal resto si sono ripresi alla grande. Stanno facendo un buon calcio, si divertano. Sono partiti con obiettivi di fare un campionato di tranquillità e si ritrovano a fare un campionato importante. Il modulo, io ogni giorno, in base anche a quello che uno vede, non è perché vai a giocare con la Turris o con altre cose. Noi dobbiamo essere realisti per come vediamo gli allenamenti, per come ci proponiamo, per quello che vogliamo fare. Ci sta come ci sta che andiamo avanti per la nostra strada. In questo momento qui, onestamente, iniziamo a preparare la partita oggi. In questi giorni, ieri abbiamo fatto una partitella, abbiamo dato spazio a quelli che hanno giocato meno. L'ultimi 30 minuti l'hanno fatto quelli che hanno giocato un po' di più. Non è che da oggi iniziamo a prepararla e avremo anche le idee più chiare per quello che vorremmo fare. Spero che facciamo la partita che dobbiamo fare. Spero, anzi, sono sicuro che saremo all'altezza del loro momento, perché è un loro momento importante. Noi cerchiamo anche noi delle risposte. È inutile prenderci in giro. Siamo arrivati a un punto del campionato dove dobbiamo far vedere anche quello che noi valiamo e quello che noi vogliamo fare. Perciò non penso che saremo mollicci, penso che saremo come loro, che è una squadra tosta, una squadra che corre, una squadra che ha delle idee. Perciò vediamo. Un po' vediamo la partita. È chiaro che vogliamo fare bene. Questo è poco, ma sicuro. Io tutte le volte mi posso rimproverare qualcosa. Chi è che non fa niente ne sbaglia mica mai. Quelli che fanno sbagliano. Io faccio questo consapevole che posso fare bene, ma posso anche sbagliare. Non è scritto, non è che io le colpe le scarico sugli altri colpi, io sono abituato a prendermele. Io le leggo sempre le partite. Per dire domenica ho finito e ho detto che ho fatto un casino. Ho fatto un casino perché chi è entrato non ha risposto come, e l'ho anche detto, mi sembra. Perciò non mi sono mai nascosto. E gli errori ci stanno. Gli errori, lo ripeto per l'ennesima volta, chi non fa niente sicuramente non sbaglia. Io sono soggetto anche io a sbagliare, come tutti però.